Finalmente aperto all'airport Link, da Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. La Paiatai prendere l'uscita 5 e seguirebbe su Arnabumi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.